Ciao a tutti, la scelta di vestire di nero ha un suo perché, ma soprattutto una sua personalità. Prima di approfondire questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora il nero per la maggior parte delle persone è quel colore che non passa mai, diciamo, sempre alla moda, perfetto in ogni occasione, ideale d'inverno, ma utilizzabile volendo anche in estate, poi alla fine. Molte persone scelgono di indossare abiti neri perché snelliscono, perché diciamo fanno comunque elegante, però il nero, diciamo, ha anche alcune caratteristiche che si collegano con, diciamo, con la personalità. Le persone che prediligono il nero sono persone che tendenzialmente vanno alla ricerca di potere, assumono il ruolo di leader, persone che cercano comunque di imporre il loro potere. Nella tipologia dell'ennegram rappresentano il boss, il tipo 8 dell'ennegram. Le persone che vestono di scuro, infatti, di nero, danno l'idea, diciamo così, di essere persone di successo. Anche l'auto nera, diciamo così, è quella che viene utilizzata da persone, diciamo, di potere, da persone di successo. C'è anche un'altra caratteristica che il nero comunque viene utilizzato molto dalle persone empatiche, che sanno comunque entrare in empatia con gli altri. È da tenere presente che ovviamente sono due cose abbastanza collegate, no? La capacità di acquisire prestigio, potere, eccetera, è anche capace, è anche collegata proprio alla capacità di comunicazione. Il nero, diciamo, ha anche una funzione, tra virgolette, che è quella di tenere sotto un po' sotto controllo l'emotività. Il nero, diciamo, tende a iperlogicizzare, diciamo così, e genera energeticamente un abbassamento del coinvolgimento emotivo. Quindi viene scelto anche inconsapevolmente da persone che tendono a essere un po' ansiose, che tendono ad avere un po' di paura e che cercano di esorcizzare con il colore nero. E di solito le persone che vestono di nero tendono a essere anche comunque persone riflessive, persone che vengono giudicate più affidabili degli altri e degne di fiducia, insomma. Ecco, queste sono un po' tutte le caratteristiche, ciò che sta dietro, diciamo così, alla scelta del colore nero nell'abbigliamento. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!